Enji è un cappotto in micro ottoman imbottito in piuma dalla vestibilità asciutta e taglio pulito. Molto femminile ed elegante, questo capo è la scelta perfetta per sentirsi al caldo in qualunque situazione. L'imbottitura in piumino 9010 garantisce protezione superiore dal freddo e dal vento, mentre il tessuto esterno, grazie ad un trattamento idrorepellente, rende il capo non solamente caldo ma anche resistente all'acqua. Il cappuccio è regolabile da una culisse ed è bordato in vera pelliccia per un look più sofisticato. La giacca ha una doppia chiusura sul davanti con zippo a doppio cursore e con bottoni, oltre a un collo interno imbottito in piuma per avere massima protezione e comfort. Il cappotto è anche caratterizzato da due tasche con bottoni sul davanti per tenere le mani in caldo nei giorni freddi.